Hanno cambiato la storia, li abbiamo ammirati, hanno dato voce alle nostre emozioni, li abbiamo ascoltati, hanno scritto pagine indimenticabili, li abbiamo tifati, ci hanno fatto sognare. Li abbiamo sognati, hanno segnato il nostro tempo, adesso li premiamo. Primo premio internazionale, il faro, uomini che lasciano il segno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.